E' quasi sicuramente doloso ma non se ne sa molto di più. L'incendio di ieri all'ex palazzo del lavoro di Torino è tuttora misterioso. Nel tardo pomeriggio le fiamme sono divampate al secondo piano dell'edificio realizzato per il 1961 in corso Unità d'Italia su progetto dell'architetto Pierluigi Nervi, dal 2009 disabitato e in fase di ristrutturazione alla periferia meridionale della città. Nel vano scale erano state accumulate alcune cataste di legna necessarie ai lavori ma nulla di più se non alcuni rifiuti abbandonati da chi ha provato a crearsi abusivamente un rifugio temporaneo. A Domare e a Rogo sono intervenute immediatamente tre squadre di vigili del fuoco che insieme ai carabinieri hanno lavorato fino alle due per lo smassamento dei detriti incendiati. Inevitabili alcuni disagi per la circolazione e soprattutto per gli abitanti della zona cui è stato suggerito di chiudere tutte le finestre per evitare che il fumo entrasse in casa. A causa del fumo infatti il traffico verso Moncaliere è stato poi dirottato da Corso Unitario Italia verso via Ventimiglia creando ovviamente un po' di confusione. Soltanto verso le 22 la viabilità è tornata a quella consueta. A questo punto però è necessario capire che cosa sia accaduto. Si propende per l'ipotesi di un incendio applicato volontariamente da uno o più persone visto che già nel corso di una prima ricognizione sono stati trovati tra i diversi fucolai in altrettanti punti della struttura sia sul lato di Corso Unitario Italia sia sul lato di via Ventimiglia. Per chiarire la vicenda potrebbe essere d'aiuto l'analisi dei filmati e delle telecamere della zona anche se per ora tutto è ancora oscuro. L'edificio non ha comunque avuto vita facile. Attualmente è di proprietà mista tra azienda pubblica e un costruttore privato torinese.